Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del mio podcast dove discutiamo di tecnologia, comunicazione e quando i giganti del web inciampano. Oggi parliamo di Facebook, il colosso di Mark Zuckerberg e di come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia recentemente messo un freno ad alcune pratiche diciamo poco trasparenti. Parliamo di pubblicità mirata e dell'uso dei nostri dati personali. Ebbene Facebook è conosciuto per la sua capacità di offrire pubblicità personalizzate in base ai nostri gusti e interessi. Sembra un servizio utile vero? Ma come fa Facebook a capire così bene i nostri desideri? Non è magia, è tecnologia e tanti tantissimi dati personali. Tuttavia qui la questione ed etica. Infatti non sempre abbiamo dato il nostro consenso chiaro a questa raccolta di dati per fini pubblicitari. La Corte dell'Unione Europea ha deciso che questa azienda non può utilizzare indiscriminatamente i dati personali degli utenti, specialmente quelli sensibili, per fini pubblicitari. Secondo la sentenza il trattamento dei dati personali deve rispettare il principio di minimizzazione, ovvero utilizzare solo le informazioni strettamente necessarie. La decisione di questa Corte chiarisce che anche se un utente rende pubblici alcuni dati, non significa che il social possa utilizzare tutti gli altri dati raccolti sia all'interno che all'esterno della piattaforma per finalità di marketing, soprattutto senza consenso esplicito e informato. Questo caso si inserisce in una più ampia discussione sulla protezione dei dati e i diritti digitali degli utenti, con implicazioni per tutte le piattaforme online che raccolgono e sfruttano i dati personali per guadagni commerciali. E qui Facebook ha ricevuto un bello stop. Questo non è il primo caso in cui la piattaforma è stata criticata per la gestione dei dati, ma è uno dei più importanti a livello di privacy. Infatti Facebook non è nuovo a problemi con la legge. Pensiamo solo agli scandali come Cambridge Analytica, dove milioni di dati personali sono stati sfruttati senza che gli utenti ne fossero consapevoli. E quindi ora l'azienda sembra ancora una volta non avere imparato la lezione. Ebbene, questo verdetto, oltre ad essere una vittoria per la privacy degli utenti europei, potrebbe avere un effetto a catena. In futuro altre piattaforme dovranno essere più trasparenti e ottenere un consenso reale prima di trattare i nostri dati per finalità di marketing. Insomma, la protezione dei dati è un diritto che finalmente viene difeso con forza anche dai confronti di giganti come Facebook. E chiudo con una riflessione. La tecnologia ha reso possibile il livello di personalizzazione mai visto prima, ma siamo davvero consapevoli del prezzo che paghiamo in termini di privacy? Beh, fatemi sapere cosa ne pensate sui nostri canali social e ricordate, la vostra privacy conta!